Fate presto perché il tempo sta per scadere l'appello di CGL Cisleguille alla politica, all'azienda, al governo perché non siano lasciati soli 90 lavoratori del pastificio Amato che a scaglioni, per qualcuno il cavallo è già iniziato, resteranno senza lavoro e senza nessun sostegno al reddito. Questa conferenza vuole smuovere un po' gli animi per far ricordare a tutti quanti la grandezza che c'è stata del pastificio Amato e l'azienda con quell'intesa mai avuta se riusciamo a recuperare qualcosa perché adesso questi lavoratori sono i cosiddetti net che escono fuori dal mercato, non hanno un lavoro, non hanno una pensione, anche perché l'età media loro non è né alta né bassa, non riescono dalla mobilità a passare alla pensione e vanno ad allungare le file di soccorso. È un percorso reso ancora più complesso dalla legge Fornero e dal fatto che ai lavoratori Amato non è stata concessa la cassa integrazione inderegua che unita agli altri strumenti avrebbe consentito per molti di poter raggiungere la pensione. Allo Stato quindi restano solo 26 lavoratori impegnati nel pastificio e sostiene il sindacato aspettative disattese da parte dell'azienda. Abbiamo accettato la mobilità e nel frattempo l'azienda si doveva riorganizzare. Una parte di questi lavoratori dal maggio 2015 non hanno né sostegno al reddito né il lavoro né tantomeno hanno potuto partecipare alle politiche attive del lavoro perché politiche attive del lavoro non ce ne sono. Quindi la dice lunga la nostra preoccupazione sul primo step di scadenza, sul secondo che ci sarà nel maggio 2016, sul terzo che ci sarà nel maggio 2017 soprattutto alla luce della nuova riforma del mercato del lavoro che non vede più, almeno dal livello nazionale, concedere mobilità in deroga.